Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in merito a mirati controlli per contrastare il lavoro sommerso con i finanziari della compagnia di Cava dei Tirreni, hanno effettuato una serie di interventi in più esercizi commerciali, a termini dei quali sono stati scoperti 15 lavoratori completamente in nero. Tra gli esercizi controllati è anche un noto locale della Movida Cavese, da anni organizzatore di eventi serali, presso il quale l'intero staff tecnico è risultato lavorare in nero. I rappresentanti legali delle società controllate sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, in tutto pari a Euro 45.000. Prevista anche la sospensione dell'attività commerciale, visto che i lavoratori in nero superavano il 20% dei dipendenti regolarmente assunti. Sempre l'Ispettorato del Lavoro provvederà infine al calcolo e al recupero dei contributi non versati. Grazie a tutti.